Ciao e benvenuto su elenco prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5. Migliori monitor 144 hertz. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista c'è LG 27GL850 Ultra Gear. LG 27GL850 Gaming Monitor con tecnologia a nano IPS, FreeSY NC e supporto HDR10. L'LG 27GL850 è un monitor da 27 pollici che presenta un'impressionante risoluzione 2560x1440 e un tempo di risposta di 1ms per ridurre il ghosting e la sfocatura durante le sessioni di gioco a ritmo sostenuto. Ha una frequenza di aggiornamento di 144 hertz per un gameplay fluido e senza strappi, così come AMD FreeSY NC per una visualizzazione senza soluzione di continuità quando si gioca a frame rate elevati. È inoltre possibile utilizzare il software on-screen control per regolare le impostazioni del monitor tramite il desktop di Windows. Altre caratteristiche includono un angolo di visione di 178 gradi, la tecnologia HDR10 per una maggiore riproduzione dei colori e il supporto VESA. L'LG 27GL850 è il monitor ideale per chi cerca un dispositivo potente con cui giocare nella maggior parte delle situazioni. 4 gradi posto abbiamo Samsung C27JG50. Samsung C27JG50 27 pollici curvo WQHD Monitor per l'intrattenimento è l'ultima aggiunta alla nostra linea di monitor curvi. Il suo schermo super ultra largo con la sua innovativa curvatura 1800R assicura che ogni punto sulla curva è equidistante dai tuoi occhi, in modo da ottenere un'esperienza di visualizzazione uniforme senza punti ciechi. Il raggio di curvatura 1800R offre un'esperienza visiva coinvolgente che ti permette di godere di viste panoramiche grandi, audaci e mozzafiato mentre lavori e giochi. Con la tecnologia avanzata di riduzione del motion blur di Samsung, questo monitor curvo free in immagine sobria e senza fuoco con un tempo di risposta veloce di 1ms, che è importante per garantire la fluidità dei movimenti durante il gioco. La modalità game è progettata per migliorare le prestazioni delle immagini video offrendo un contrasto più elevato e un'immagine più luminosa. Con due porte HDMI, una porta DisplayPort e una porta USB, puoi facilmente collegare questo monitor a qualsiasi dispositivo. Numero 3. Abbiamo Samsung Monitor. Il monitor da gioco curvo CHG949 di Samsung è perfetto per un gioco coinvolgente su grande schermo. La curvatura 1800R e la risoluzione 1920x1080 creano un'esperienza veramente cinematografica, mentre la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il tempo di risposta di 1ms garantiscono immagini fluide e senza lag. Il pannello va fornisce colori ricchi e neri profondi, mentre HDR600 assicura bianchi più luminosi e scuri più scuri. Inoltre, il monitor dispone di due porte HDMI, due porte USB 3.0, un porta Display, un porta Mini Display e porte audio in barra OUT per una connettività versatile. Il design elegante e senza bordi assicura una perfetta visualizzazione delle immagini, mentre il supporto rotante permette di spostare facilmente il monitor da una posizione all'altra. Il monitor è compatibile con tutti i principali sistemi operativi e viene fornito con una garanzia di due anni sul prodotto. Numero 2. Abbiamo Benku Zowie XL2430. Il monitor Benku Zowie XL2430 è adottato in tutto il mondo dalla maggior parte dei giocatori e dei tornei di esports professionali. È dotato della tecnologia Black Equalizer che aumenta la visibilità nelle scene scure senza sovraesporre le aree luminose. Il supporto regolabile in altezza è facile da regolare per una visione ottimale e la cornice appositamente progettata riduce le distrazioni visive. La tecnologia Anti Flicker riduce l'affaticamento degli occhi. Il monitor Benku Zowie XL2430 è usato dalla maggior parte dei giocatori e dai tornei professionali di esporti in tutto il mondo. È dotato della tecnologia Black Equalizer che aumenta la visibilità nelle scene sicure senza influenzare le aree luminose. Il supporto regolabile in altezza si regola senza sforzo per una visione ottimale e il bordo attaccato riduce la distorsione della visione. La tecnologia Anti Sfarfallio riduce l'affaticamento degli occhi. Per finire, il numero 1 della nostra lista è ViewSonic XG270QG. ViewSonic XG270QG 27 pollici 2560X1440-165Hz monitor con Nvidia GSYNC. Questo è un grande monitor da gioco per giochi e film di alta gamma. Il tempo di risposta sullo schermo è di 1ms che lo rende perfetto per il gioco veloce. Questo monitor ha costruito in altoparlanti e un jack per cuffie, quindi è possibile utilizzare le cuffie senza doverle collegare attraverso un altro dispositivo. Ha anche costruito in illuminazione RGB che si sincronizza con altri prodotti ViewSonic, così come una porta d'ingresso HDMI e una porta d'ingresso DisplayPort. Questo monitor ha tutto ciò che ci si aspetta da un monitor da gioco. La risoluzione 2560X1440 è perfetta per la maggior parte dei giochi e i 165 Hz significano che non si perde nemmeno un frame. Oltre a questo, Nvidia GSYNC permette di sfruttare al massimo le capacità dell'hardware. Tutte queste caratteristiche insieme rendono il ViewSonic XG270QG un eccellente monitor da gioco. Grazie.